Ma come? Ma almeno ditemi come. Com'è, Anna? Di lui? Prego. C'è pure il parmigiano? No, un po' di caciocavallo. No, no, no. Sì, l'anno. Grazie. Cioè, tu fai quell'acqua e l'acqua. No, 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 guarda qua. Mi fa, guarda qua. La sera prima. Lui utilizzo l'acqua per risottare. Acqua e succo di limone. Quell'acqua, solo quell'acqua. Li mette a macerare anche per succo di limone. Ma non è che la pasta... Con l'acqua che si è sciacquata i limoni, si bucca. E il limone si preme. E il succo di limone.